Il tema centrale di questo congresso è stato come tutelare la salute della donna tutelando anche la salute del pianeta. Sappiamo che gli ospedali contribuiscono moltissimo all'inquinamento ambientale, fino al 5-10% delle emissioni di CO2 nel mondo e quindi gli operatori sanitari possono fare moltissimo per curare bene le donne senza danneggiare troppo il pianeta e questo lo si può fare sia stimolando le donne ad adottare un corretto stile di vita, quindi un'alimentazione sana, evitando troppo le carni rosse, facendo attività fisica, sia fornendo delle cure appropriate e l'appropriatezza delle cure vuol dire anche ridurre la necessità di accedere agli ospedali e quindi centralizzare le cure sul territorio, quando è possibile trovare delle alternative mediche rispetto a quelle chirurgiche e se la donna invece deve entrare in ospedale perché ha bisogno davvero di un intervento chirurgico, fare in modo che arrivi in ospedale nelle migliori condizioni possibili e favorire in tutti i modi il suo rapido recupero, in questo modo l'ospedalizzazione sarà più breve e le pazienti recupereranno molto rapidamente le loro condizioni pre-intervento. Altra cosa importantissima è quello che possiamo fare nelle nostre sale operatorie, per esempio evitando i gas anestesiologici più inquinanti, utilizzando quando possibile il materiale pluriuso invece di quello monouso, gestendo accuratamente i rifiuti e ci sono tante evidenze che noi possiamo fornire una migliore qualità assistenziale adottando dei comportamenti corretti per il nostro futuro.